questa è casa mia stai a San Giovanni fate vele cose vostre Non ci sono le contestazioni, non ci sono le contestazioni, a base a correnza. A base a correnza mi sembra il concessivo. Non ci sono le contestazioni, non ci sono le contestazioni. Poi lo dico alle agenzie, l'hanno fischiato, ma perché non l'hanno riconosciuto. Ah no, certo, se ne vedo poco a questa parola. Questa è la leggemente rosa. Ah, è la leggemente rosa. Comunque, te lo vedete? Tu, Bertagio, dove lo vedete adesso? Tu non lo senti, Bertagio? Sentatura, guarda. Il Valle Improvvisato Il Valle Improvvisato Non credo che si presta. Andiamo da Massimo, dai. Il vecchio e il nuovo. Ce lo porto io, andiamo dai. Mi trovate Massimo, per favore? Dai, faccio io. Qua a San Giovanni, Roma, lo conosco. Andiamo dai, andiamo dai, andiamo dai. Andiamo dai. Davo il testo della stazione di Cimac, secondo me è una delle canzone. E' bellissimo. Cos'è che hai detto che giovedì lo dobbiamo fare? Che poi ognuno risponde. Giovedì lo ha detto. Comunque non ce lo fa apposta. Allocate il bicchierato della Madonna. No, sbronza. Sbronza. Andiamo a sentire per difetto. Davo che scoppia... Inizia per due nuovere. No, sbronza. No, sbronza. Non, nasce la metà. Sbronza! Sbronza! No, non! No, non, non, non... Non, 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 non... Non, 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 non. Nese continuerà, a metà. Tittata di Cimac. Neseo per la mia vita. Neseo per la mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.